Il 20 e 21 settembre si andrà a votare non solamente per le regionali ma anche per il referendum costituzionale che cambierà, si propone di cambiare il numero di deputati e senatori. Il vero interrogativo, il vero dubbio di fronte al quale gli elettori si trovano e se ridurre il numero significa anche aumentare l'efficienza di entrambe le Camere. Lei che è Presidente della Camera, che opinione ha in merito? Io credo che potrebbe aumentare l'efficienza, però il punto fondamentale non è esclusivamente il numero dei parlamentari, che è un fatto, poi i cittadini voteranno come vorranno, lo dico la Presidente della Camera, l'importante è che siano informati in modo coscienzioso sul voto. Quindi più siamo informati e più possiamo scegliere in modo giusto rispetto alle nostre convinzioni e alle informazioni che abbiamo avuto. Il Parlamento può senza dubbio funzionare in un modo al di là del numero dei parlamentari. Due aspetti. Il primo aspetto io chiedo sempre ai partiti politici tutti di provare in ogni momento a far sì che ci sia sempre un innalzamento della qualità delle persone che vengono messe in lista e che arrivano in Parlamento. Questo lo dico in generale perché la classe dirigente di un paese ammonte una selezione all'interno dei movimenti e dei partiti politici che deve essere una selezione sempre di qualità perché più qualità c'è poi all'interno del Parlamento e il modo migliore di lavorare senza dubbio è quello. Da un altro punto di vista c'è un riequilibrio importante che deve essere fatto ai rapporti tra il Parlamento e il Governo, i rapporti con i decreti legge, che spesso non nell'emergenza ma nelle varie legislature compresa questa sono stati troppi e i decreti sono diventati ormai qualcos'altro. Prima per la Costituzione erano necessità e urgenza, oggi un po' il decreto può partire per tante situazioni. Allora non è un problema esclusivamente di numero dei parlamentari ma il problema è più generale per far funzionare meglio le cose. Senza dubbio al referendum in caso passasse il sì è giusto affiancare delle riforme che riequilibrano il taglio e quindi dalla legge elettorale, dalla riforma costituzionale Fornaro che alla Camera e un'altra al Senato per far sì che ci sia tutto un riequilibrio costituzionale.